Ci vuole poco per sabotare una seduta del Parlamento europeo, basta che i traduttori incrocino le braccia per mandare in tilt gli eventi in agenda. È quello che è successo martedì a Strasburgo, dove gli interpreti hanno scioperato, impedendo così al primo ministro bulgaro Boiko Borisov di pronunciare il suo discorso. Vorrei dire qualcosa circa quello che è successo oggi, ma non lo farò, ha detto il presidente della Commissione europea, però forse dovrei farlo, perché tutto questo non è normale. Gli interpreti denunciano l'aumento delle ore da trascorrere nelle cabine per la traduzione.